Volti nuovi, riconfermo il ritorno nel nuovo Consiglio Comunale dell'Aquila, il centrodestra prende 20 seggi, più quello di Biondi. Fratelli d'Italia fa il pieno, 7 seggi, entrano Raffaele e Daniele, secondo più votato in assoluto, Vito Colonna, Livio Vittorini, Katia Persichetti, Ercilia Lancia, Silvia D'Angelo e Leonardo Scimia. La Lega incassa 4 seggi, Laura Cucchiarella, Francesco De Santis e gli assessori uscenti, Daniele Ferelle e Fabrizio Taranta. Buon risultato per l'Aquila Futura, che ottiene tre seggi con Roberto Sant'Angelo, il più votato in assoluto, Laura Cococcetta e Guglielmo Santella. Forza Italia piazza invece Roberto Tinari e Maria Luisa Ianni. I civici e indipendenti per Biondi portano in Consiglio Fabio Frullo e Luigi Faccia, mentre l'Aquila al centro, Daniele D'Angelo e Stefano Flamini. Ovviamente, se il sindaco pescherà dagli eletti gli assessori, entreranno i primi dei non eletti e quindi c'è chi spera. Il passo possibile di Americo Di Benedetto mette Emanuele Aiorio e Alessandro Tomassoni. La sua lista delle frazioni piazza Massimo Scimia, azione riporta in Consiglio Enrico Verini. Per il centrosinistra, per il PD entrano Stefano Palumbo, Stefano Albano, consiglieri uscenti, Eva Fascetti. Resta fuori Carlo Benedetti. Per l'Aquila Coraggiosa avvolti nuovi l'avvocato Simona Giannangelo e Lorenzo Rotellini, riconfermate in Consiglio anche Paolo Romano di l'Aquila Nuova. Intanto il centrodestra questa mattina ha analizzato i voti con tutti i vertici dei partiti che hanno sostenuto la ricandidatura di Pierluigi Biondi alla presenza del governatore d'Abruzzo Marco Marsilio. È un Consiglio Comunale con il giusto equilibrio fra candidati, fra esponenti di esperienza che già sono stati seduti tra i banchi del Consiglio Comunale, molti della consigliatura uscente. Ci sono molte donne, ci sono alcune conferme tra le donne, ci sono dei voti nuovi e questa è una cosa molto bella e molto utile alla città. Ci sono delle liste solide, c'è un centrodestra compatto e consapevole della chiamata fatta dagli Aquilani. Per la composizione della giunta comincerete subito a lavorare? Sì, non ci vorrà molto tempo, l'assetto è ben definito degli equilibri di partito, delle formazioni civiche. Adesso qualche giorno ci fermiamo a mettere a punto tutti gli aspetti amministrativi che una fase di transizione porta sempre con sé. C'è il tema, probabilmente ne parleremo già a brevissimo, della visita del Papa, ci sarà il Comitato Ordine e Sicurezza allargato, ci saranno tante iniziative da prendere e poi procederemo anche con la giunta. Il governatore Marsilio ha detto che se c'era un sistema di potere è quello che Biondi ha scardinato cinque anni fa, un'abbordata a Stefania Pezzopane dopo le sue dichiarazioni di ieri. Marsilio non ha risparmiato critiche feroci al centro-sinistra anche in relazione alle battute sul suo essere di Roma. Il governatore, anche lui come tutti gli altri presenti, ha sottolineato l'importanza dell'unità del centrodestra. Via via tutti gli esponenti dei partiti che hanno sostenuto i biondi hanno rivendicato lo straordinario risultato elettorale dove il centrodestra, si presenta unito, vince. e poi gli sperimenti a Roma.